Le regioni hanno approvato delle linee guida per la riapertura di diverse attività e ha chiesto al governo di individuare delle date precise dopo le quali permettere queste riaperture anche per poter programmare la ripresa in particolare del turismo, ma di tanti altri settori, palestre, piscine, ristoranti, bar, cinema, musei e così via. Ancora una volta sono le regioni a porsi all'avanguardia, a fornire al governo e al paese gli strumenti per ripartire e rimettere in moto l'economia che è la seconda grave crisi dopo quella sanitaria che dobbiamo assolutamente affrontare prima che degeneri e prima che la crisi economica possa davvero trasformarsi in una tragedia.